a dal romanzo best seller scritto da tc reset e de resettis ehi ciao mucca no che ti succede no mucca nooo una storia triste ehi ciao pig no pig cosa succede no l'uomo che non poteva salutare dal 31 febbraio al cinema salve a tutti io sono tc reset e benvenuti in questo nuovo video della serie mancraft mods 1.5.2 attenzione l'amo di oggi è chiamata creeper gauntlet questa mod introduce un unico singolo nuovo item appunto il creeper gauntlet questo è un guanto che ha il potere di assorbire un creeper al suo interno dopo di che l'essenza di creeper che abbiamo può essere trasferita all'interno di un mob facendolo esplodere come se esso stesso fosse un creeper mo ha 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 prima di entrare nel dettaglio però vediamo come si crea creepio mi consente allora ecco quel crafting per craftare appunto il creeper gauntlet basterà avere 5 ender pearl in questa posizione più una gunpowder e adesso vediamo un po' come funziona questo guanto il vantaggio di sfruttare il creeper gauntlet è che un mob in seguito a un'esplosione dropperà una grande quantità di items maggiore della normalità se lo dovessimo uccidere a seconda ovviamente del tipo di mob facciamo un esempio sponiamo una bella mucca se adesso risucchio un creeper in questo modo guardate vieni a me ecco qua poverino è dentro il mio guanto se adesso col tasto destro clicco sulla mucca attenzione boom esploderà e guardate quanta roba dropperà ragazzi quanta carne e quanta leather in quantità industriale quindi signori questo era uno adesso invece vediamo un po' come sarebbe con una con una pecora allora se facciamo esplodere una pecora quindi prendiamo un creeper voilà sapete cosa dropperà? ma è ovvio tanta lana guardate quanta non ci sarà mai più bisogno di fare un letto in vita vostra aprete tutta questa lana per sempre la scorta per tutta la vita adesso vediamo invece che succede se mandiamo l'essenza di creeper a un altro creeper non ve lo consiglio perché ha degli effetti negativi siete pronti? boom ci manda molto indietro l'esplosione è molto più grande e non droppa niente così impariamo a fare i packserelli lol però la cosa che più spaventa signori è se usiamo il guanto su un iron golem cioè non potete farlo è pazzia questa è basta allora qua abbiamo un iron golem se abbiamo l'essenza di creeper o dei creeper o mai più c'è nel numero 5 adesso c'è creeper numero 5 basta guardate siete pronti? attenzione boom oh my god dite che un buchino piccolo l'ha fatto no? ah avete visto però in compenso guardate quanto quanto ferro droppa che quasi quasi ne vale la pena decisamente di farlo esplodere e niente signori quindi questa era la mod è uscita da poco e già la trovo abbastanza simpatica e niente signori direi che sarebbe opportuno mostrarvi come installarla e rieccoci qua signori nel mio tg resettoso desktop e vediamo come installare la creeper gauntlet mod che necessiterà di minecraft forge quindi bisognerà prima di tutto installare forge su un punto minecraft pulito mi raccomando se avete un punto minecraft dove avete già installate altri mod tipo tfine too many items mod loader eccetera minecraft forge crusherà quindi mi raccomando prima di installare forge dovrete avere un punto minecraft pulito dopo che avrete installato forge potrete installare la creeper gauntlet semplicemente trascinando questo file file jar dentro la cartella mods dopo averlo spiegato in breve adesso passiamo alla installazione manuale passo per passo allora per prima cosa andiamo in questo link che è la pagina della mod che sarà presente in descrizione dunque qua avremo tutte le informazioni che abbiamo bisogno scendiamo qua sotto clicchiamo nella sezione download versione 1.0.0 quindi si aprirà questa pagina ovvero di mediafire e cliccate sul bottone verde con scritto download e tra parentesi 63,3 kilobytes così non vi confondete e inizierà il download poi andiamo in quest'altro link sempre presente in descrizione per scaricare minecraft forge vi consiglio la build 684 perché è la recommended ovvero questa qui e cliccate su universal e dunque si aprirà una pagina di adfly cosa dovrete fare dovrete attendere 5 tc reset ogni secondi senza dare retta alla pubblicità che appare qua sotto occupando quasi tutta la pagina e cliccare sul bottone giallo che compare in alto a destra con scritto avanti a sto punto inizierà il download bene una volta che abbiamo scaricato entrambi i file vediamo come installarli apriamo il menu start e nella barra cerca digitiamo percentuale app data percentuale il primo e l'unico risultato sarà roaming ci richiamo e comparirà questa paginetta entriamo nel punto minecraft entriamo nella cartella bin selezioniamo minecraft che sarebbe i jar file ovvero minecraft punto jar e col tasto destro lo apriamo con winrar o qualunque altro valido programma di archiviazione in alternativa come 7zip o power archiver adesso eliminiamo metà inf anzi metà infame perché ci blocca il download quel maledetto ok l'abbiamo obliterato è sempre un tipo di ristallazioni di forge quindi lo apriamo selezioniamo tutti i file all'interno della cartella compressa di forge e trasciniamoli con gaudio dentro il minecraft punto jar con viva e vibrante soddisfazione basta lo smetto ok a sto punto non vi preoccupate se forge vi rimette una specie di meta inf ma questo non è infame è innocuo dunque adesso avviamo velocemente minecraft questo perché per fare in modo che forge scarichi i file che necessita per continuare con l'installazione quindi facciamo un bel login e a sto punto scaricherai i file la prima volta ci mette sempre un po' quindi per praticità taglierò il video ok il download è terminato dunque adesso potete anche richiudere il vostro minecraft e tornare nel punto minecraft e noteremo che saranno comparse delle nuove cartelle tra cui la cartella mods entrate dentro la cartella mods è un ordine e trascinate la creeper gauntlet qua dentro nel mio caso la coppio benissimo un'installazione è terminata direi di testare personalmente il funzionamento della mod quindi direi un bel login like a boss ci sta ci stava ci stava basta e facciamo un mondo in creative dunque attendiamo ok create new world creative ok benissimo yes così si fa like a boss e vediamo un po' se c'è lui spawna in acqua attenzione lui è alternativo ok vediamo un po' ci trasferiamo qua e quindi andiamo in questa sezione delle armi e noteremo che ci sarà appunto il nostro creeper gauntlet mucca ti potrei far esplodere ma non lo faccio perché sono buono ok se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e un commento iscrivetevi al canale di minecraft italia se no vengo a casa vostra e non vi regalo le caramel e niente lasciate un bel mi piace e ci si vede ad un prossimo video ciao a tutti